Alzino la mano quelli che qui, tra di noi, abbiano mai guardato negli occhi un gigante, un essere infinitamente più grande, e lo abbiano apostrofato con due piccole e strazianti sillabe. Pa, Pa, Amilcar, re della città, Aminta, adottando i nemici, Anastasia, Ressurrezione. Il mio nome d'arte è Badilova, il mio nome è Lanagrafe, Marco Sardegna, e già questo mi fa girare il pugnone. Dov'è la mia paura, Anna? Quella dei lampioni appena accesi, della gente al panificio con le facce sempre uguali, le pulizie, le canzoni a squarciagola, dov'è la mia voce? Anna! Anna, quella alta, stridula, acuta, come cazzo è? Quella da Bruce Dickinson, non la trovo. Anna, ce l'hai fatta, brava, mi salvi sopra, cavalca, cavalca, cavalca è niente, Anna. Valentina non c'è, Valentina non ci sarà, Valentina è una mainata. Prima di concludere l'elenco di Capiracusa, prima di consumare la lista di questo holocausto, di questa gallemia dell'atricità di cui avete già abbastanza, lo devi dire, approfittare, vi chiedo una cosa, l'ultima cosa soltanto, che cos'è, secondo te un padre? Grazie a tutti. Grazie a tutti.